Allora, ciao a tutti, grazie per essere qua, per essere sopravvissuti a questa lunga giornata e questo ultimo speech. Spero di lasciarvi andare a casa con qualcosa di concreto in mano, con qualche pensiero che io questa sera vi porterò più che altro in maniera panoramica, perché i concetti sarebbero veramente, veramente tanti, qui ne ho racchiuso qualcuno che secondo me sono tra quelli più importanti. Allora, due parole su di me, io appunto mi chiamo Paroma Donadi, sono un grafico, i grafici quelli di una volta, che però mi sono dovuta anch'io chiaramente, ho dovuto virare un po' quello che è il mio lavoro nel mondo digitale, perché le richieste delle aziende oggi sono quelle. Quindi mi occupo appunto di immagine, grafica e comunicazione aziendale, mi occupo anche di personal branding, che è un'azienda più in piccolino, se vogliamo, e faccio anche formazione. Appunto, ho fondato assieme a degli amici genitori in rete, che correggo, non è un'associazione, ma è una semplice community formata da volontari e andiamo, giriamo le scuole di Verona e provincia, scuole, comuni, associazioni, dove ci chiamano, proprio per portare un po' di cultura del digitale, soprattutto nelle figure di genitori e di educatori. In realtà i concetti che vi racconterò oggi non riguardano solo i minori, ma riguardano anche gli adulti. Giusto per scopo statistico, quanti di voi hanno figli? Eh, già un buon numero. Quanti di voi hanno nipoti? Ecco. Quindi insomma, siamo qua per un motivo. Ma facciamo un passo indietro. Tutti noi, credo che siamo in questa sala, abbiamo costruito la nostra adolescenza, la nostra giovinezza, più o meno con questi elementi, quindi che si ricorda il Walkman, il telefono a gettoni, le pellicole fotografiche, eccetera, eccetera. Ecco, oggi tutte queste cose non sono scomparse, ma hanno cambiato forma. Le viviamo tutte, i nostri figli, i nostri giovani, le vivono tutte all'interno dello smartphone. Non hanno meno importanza di quelle che abbiamo vissuto noi. Sono le stesse precise identiche, comprese le relazioni. Noi un tempo ci incontravamo con gli amici, magari nella piazza del paese, nei giardinetti. Oggi i nostri figli si incontrano in chat. Non è meno importante. Quello è il loro modo di fare relazione tra di loro. Il 65% dei bambini, che oggi sono alle elementari, ma aggiungerei anche alle medie, da grande farà un lavoro che ancora non esiste. E molto probabilmente sarà un lavoro in ambito digitale, o che avrà a che fare con il digitale e con internet. Motivo per cui noi, come genitori in rete, sosteniamo che non abbia molto senso togliere le tecnologie ai figli per proteggerli. Casomai ha più senso insegnare loro ad usarle bene. Ma per insegnare loro ad usarle bene dobbiamo prima saperlo fare noi. Mi viene un po' da sorridere perché mi trovo davanti dei colleghi, persone che comunque lavorano con internet. Eppure siamo qui a raccontarci queste cose. Perché non è scontato che anche noi che facciamo questo lavoro, che siamo tutti i giorni dentro internet, questi ragionamenti li abbiamo fatti. Allora, facciamo un altro passetto indietro. Iniziamo a parlare di identità. Ecco, purtroppo qui è un po' bruciato, c'erano due bei cerchi azzurri, ma vabbè non importa. Allora, noi abbiamo un'identità reale, nella vita reale, e un'identità digitale. Che cos'è la nostra identità digitale? A parte lo speed, che è questo essere un po' strano. Ma tutto quello che noi immettiamo in rete su di noi, quindi social, blog, forum, siti, eccetera, eccetera, vanno a creare la nostra identità digitale o nel digitale. Le tracce che lasciamo di noi in rete. Allora, perché la parola virtuale è cancellata? Perché virtuale significa una simulazione della realtà. Ma la nostra vita, diciamo, nel mondo digitale non è una simulazione. È vita vera. Queste due realtà devono coincidere. Non è più come agli albori di internet dove avevi magari il nickname. Oggi non è più così. Proprio perché internet fa sempre più parte del nostro DNA, della nostra vita. Oggi non si può più fare niente senza internet. Non puoi più neanche scrivere i figli a scuola, perché lo devi fare attraverso il portale. Non puoi più avere un conto in banca, perché devi avere l'home banking. Non si può più fare niente. Ecco, quindi sempre di più dobbiamo noi prendere la forma della rete, senza farci male. E questo è un esempio, è un caso reale che è successo l'anno scorso, non so se qualcuno lo conosce. Un esempio di come vita reale e vita digitale si mescolano. Si sente male? Ok, grazie. Questo è un caso che è successo a Cristina lo scorso anno. Che cosa ha fatto Cristina? Cristina, mamma di due bambini, era maggio. Uno degli ultimi giorni di scuola c'era una festina fuori da scuola. Suppongo lei cosa ha fatto? Si è fatto un selfie con sullo sfondo alcune altre mamme, magari in pose un pochino infelici, magari con qualche chiletto di più, e ha scritto questo commento. Festa di fine anno, alla scuola di sua figlia. Mamme, iniziate ad usare, e qui ha messo un hashtag con un prodotto dimagrante che probabilmente, anzi sicuramente, lei vende. Perché i vostri mariti si girano a guardare le altre mamme ben più curate di voi. Tadam! Cosa è successo? Che Selvaggia Lucarelli, e il nome Selvaggia è tutto un programma, ecco, che conoscerete, è una nota opinionista molto agguerrita che tra l'altro sta portando avanti delle sue campagne contro questi prodotti dimagranti che vengono venduti in maniera poco etica, diciamo così. Lei, grazie proprio a questo hashtag, ha individuato questo post, e non sto qui a leggervelo, ma in poche parole lei dice, ma come ti permetti tu di fare una cosa del genere, di prendere queste mamme da dietro a tradimento, e di fare questo post solo per vendere questi prodotti. Per farvela breve, perché poi ho seguito un po' la vicenda, in quel periodo Cristina ha perso il lavoro, suo marito quasi, i suoi due figli sono diventati bersaglio di prese in giro, sono stati un po' bullizzati, tant'è vero che le ultime settimane di scuola li ha dovuti tenere a casa, perché non riuscivano più a sopportare il clima, e poi lei e la Lucarelli si sono prese a denunce, eccetera, eccetera. Ecco, tutto per cosa? Per un selfie che non doveva essere fatto. Questo per far capire quanto la vita reale e la vita digitale sono la stessa cosa, e se noi non sappiamo governare bene l'una o l'altra, poi sono problemi. Ecco, scrivere online è quasi scolpire nella pietra, questo l'ha detto appunto Vera Gheno, sociolinguista, e Bruno Mastoriani, giornalista filosofo. È vera questa cosa, alla faccia che noi che abbiamo visto internet crescere, nascere e crescere soprattutto, nelle nostre teste è ancora quella bolla di sapone, è ancora qualcosa che è inconsistente, non esiste, non è niente, quindi non ha valore, non ha peso, in realtà è proprio il contrario, perché quello che io immetto in rete non viene più cancellato. La rete non dimentica, ma soprattutto non perdona. Quindi questa frase è ancora più vera. Chiediamoci però anche che traccia lasciano di loro i nostri figli in rete. Questi sono alcuni articoli che trattano il tema delle challenge, le sfide estreme. Allora, vediamo a partire da destra, adolescenti che masticano capsule di detersivo. Ci sono stati tanti casi di avvelenamenti in ospedale. Pure queste due in basso, delle challenge copiate o prese, che sono state create prendendo spunto da alcune serie televisive o da alcuni film, oppure quella della magrezza, quindi ragazze che addirittura poi sfociano nei disturbi alimentari per avere i selfie perfetti, oppure che ritoccano le foto, se non sono perfette non le pubblicano e cose di questo genere. Questo qui più in alto è un articolo dell'Arena dell'anno scorso, quindi adesso io non riesco a vedere la data, ma che usciva dall'ospedale di Negrar, quindi parliamo solo di una piccola porzione di Verona, dove i medici hanno denunciato nel giro di pochi mesi un boom di recovery, parlavano addirittura di 240-250 adolescenti ricoverati con crisi di sonno, attacchi di panico, attacchi d'ansia, perché questi ragazzi stavano gran parte della notte a chattare, a svegli, ad aspettare le notifiche, eccetera. E parliamo solo di Negrar. Ecco, una riflessione. Perché fanno queste cose? Perché si masticano le pastiglie del detersivo? E potrei mettervene altre decine di queste sfide, ne vengono fuori ogni giorno. Io penso che non lo fanno perché si divertono, perché non ci può essere divertimento in questa cosa. Lo fanno perché pubblicano in rete, si filmano, si fotografano, pubblicano in rete il video per ottenere i like. Ecco, tra l'altro voi saprete che notizia di pochi giorni Instagram ha deciso di nascondere il numero di like, anche proprio per prevenire questi fenomeni. Sarà sufficiente quello? Sicuramente no. Forse è un passettino. Certo è che non possiamo abbassare la guardia. Comunque, il fatto di cercare l'approvazione dei propri pari attraverso queste cose è triste, è triste. Io adesso non voglio giudicare nessuno e non ho sicuramente la ricetta magica. Però, come genitori, come educatori, ci possiamo chiedere che cosa possiamo fare, cosa possiamo dare ai nostri figli per riempire le loro vite di qualcosa di positivo, di costruttivo. Perché lasciare un vuoto vuol dire lasciare spazio alla rete di riempirla con un punto di domanda, con quello che capita. Ecco, altri articoli reali. Allora, quanti di voi, vi chiedo, sa che cos'è il sexting? Beh, siamo già messi bene, dai. A volte ho platee di decine e decine di genitori di cui nessuno sa che cos'è il sexting. Dunque, per chi non lo sapesse, il sexting è una pratica molto in voga oggi, purtroppo, soprattutto tra adolescenti, ma anche giovanissimi, si parla già di 11-12 anni. Quindi, la pratica di scambiarsi materiale, video, foto, ma anche vocali o messaggi di testo, a sfondo sessuale. Allora, inutile dire che questo è tutto materiale pedopornografico che finisce in rete, perché Whatsapp è internet e come materiale pedopornografico è illegale, anche se è creato e detenuto da minori. Infatti, vediamo questo articolo, chiede se il fiotto alla fidanzatina scatta il reato di pedopornografia. Ma facciamo un passo ancora avanti. Di fondo è la foto di una coetanea a tredicenne a seno nudo, denunciati i genitori. Questa è una cosa importante. Io sento tanti genitori che mi dicono beh beh, ci penserà lui a quello che combinerete. No, no, la responsabilità è tua. Ma soprattutto questa è una notizia più recente. vediamo giugno di quest'anno un 48enne di Milano ha per tre anni abusato di tre ragazzine ragazzine dai 13 ai 16 anni. Allora, io ho un figlio di 13 è più alto di me, ha il 42 di scarpe a vederlo dici cavolo, è un uomo col fischio che è un uomo nel senso sono ancora bambini. queste ragazzine, io poi mi sono letta tutti i vari articoli dai 13 ai 16 anni quindi vuol dire che tre anni della vita di queste tre ragazzine sono stati rubati da questo personaggio e loro per tre anni non sono stati in grado di uscire da questo tunnel. Questo ci deve far riflettere perché allora è vero che non è giusto il controllo perché i figli poi il controllo cercheranno sempre di eluderlo con grande piacere anche suppongo però accompagnarli in questo percorso quello è nostro compito farlo se non siamo genitori però magari siamo zii siamo educatori siamo amici abbiamo sempre attorno a noi potremmo avere dei minori quindi è importante avere anche un occhio di riguardo verso quello che fanno in rete ecco altri tre esempi reali partiamo da qui questo è un caso sempre dell'anno scorso mi sembra sì settembre 2018 Igor ne aveva parlato ITG ampiamente muore soffocato a 14 anni da una sfida estrema che si chiamava blackout consisteva all'epoca era di moda perché poi diventano virali in pochissime ore o giorni queste sfide consisteva nello stringersi il collo in modo da bloccare l'afflusso di sangue al cervello e indurre uno svenimento che doveva durare pochi secondi però purtroppo ci sono stati anche dei casi in cui il ragazzo non si sono più svegliati Igor è stato uno di quelli anche qui io mi sono letta poi delle interviste del padre Igor non era un disagiato non era un depresso era un ragazzo d'oro era un ragazzo con ottimi voti a scuola pieno di amici pieno di vita andava ad arrampicare faceva sport per dire che queste cose non succedono solo a ma sì ma tanto a mio figlio non succede perché mio figlio è uno in gamba è uno bravo no no possono succedere a chiunque perché l'inesperienza l'ingenuità di questa età è trasversale a tutti a tutti i ragazzi il giorno dopo se non due giorni dopo è successa anche questa 15 anni sono andati su un gruppo di due o tre amici sono andati sul tetto di un centro commerciale per scattarsi questi selfie in altezza e quindi sempre per il meccanismo che vi dicevo prima li hanno scoperti le guardie scappando uno di questi è caduto giù in un buco e purtroppo anche qui c'è stato un decesso ma anche nella nostra piccola Verona questo è un articolo di pochissimo tempo fa recentissimo dove una ragazza è salita su un treno sempre per farsi un selfie estremo e ha toccato i fili dell'alta tensione gravissima poi io purtroppo non ho più avuto notizie spero che insomma si sia ripresa ma sono proprio tutti così questi ragazzi questo è un bellissimo caso cosa è successo l'attrice famosissima Gwyneth Paltrow si è fatta questa foto è andata a sciare con la figlia ha fatto questa foto e l'ha postata su Instagram la figlia si è arrabbiata tantissimo ha detto mamma non puoi postare la mia foto senza il mio consenso te l'ho detto un sacco di volte smettila una ragazza di 14 anni che insegna alla madre la cosa che mi fa un po' tristezza è che nonostante questo la mamma non ha cancellato la foto vedete che a volte non sono i ragazzi il problema il problema siamo noi loro ci sono nati dentro internet dentro i social noi invece li abbiamo un po' subiti ce li siamo trovati addosso senza che nessuno ci insegnasse ad utilizzarli questo perché appunto quando le serate che andiamo come genitori in rete andiamo a fare nelle scuole l'abbiamo proprio intitolata manuale di istruzioni perché quel manuale di istruzioni che nessuno ha mai creato dobbiamo essere noi un manuale vivente e come ci si comporta invece con i bambini più piccoli oggi c'è anche uno dei fenomeni che c'è oggi è questo quello dei baby influencer o delle family influencer senza anche qui voler tirar fuori i giudizi che non spetta a me mi piacerebbe solo chiedere a questi bambini se hanno scelto loro di fare questa cosa io credo di no di stare ore sotto i riflettori a farsi truccare a farsi fotografare questo per me è lavoro minorile che dovrebbe essere proibito e vediamo poi appunto queste famiglie ne troviamo tante anche di italiane creare i propri canali youtube fare video su video per spiegare il nulla più assoluto sempre perché i bambini attirano e quindi poi lì ci si possono fare dei soldi ok lascio a voi ogni riflessione allora una ricerca una recente ricerca dice questo che il 60% dei bambini tra i 6 e i 24 mesi quindi prima dei due anni è capace di scorrere da solo video immagini e foto gli dati in mano uno smartphone loro si arrangiano il 50% sa modificare una schermata cioè noi a volte non siamo capaci il 45% è in grado di far partire un cartone animato loro sanno andare su youtube cercarsi quello che gli serve e il 30% accende o spegne da solo il telefonino per me era capricciante sta cosa allora la società italiana di pediatria ho messo la data perché secondo me potevano aspettare un altro po' con calma cioè l'anno scorso a giugno dell'anno scorso si sono finalmente hanno espresso le loro raccomandazioni dicendo che le raccomandazioni riguardanti gli schermi digitali quindi compresa la tv che è sempre uno schermo digitale dicendo che dai 0 ai 2 anni non dovrebbero venire a contatto con smartphone o tablet dai 2 ai 5 anni possono stare un'ora al giorno dai 5 agli 8 anni possono stare due ore al giorno per me sono tante voi cosa dite se noi li abituiamo a questa età qua a fare due ore al giorno hai voglia questi man mano che crescono e poi appunto quando crescono cosa fanno io per farvi un esempio io ho due maschi che vivrebbero di videogiochi io gli metto il timer da cucina hanno 20 minuti a testa di gioco sono niente 20 minuti a loro non gliel'ho detto ma io ho fatto questo ragionamento dentro di me se parto da 20 minuti se un giorno se lo meritano posso pure aumentarglielo ma se parto da due ore hai voglia a ridurlo cioè è una guerra ecco con questa immagine vi porto un'altra riflessione quante volte siamo noi che guardiamo i nostri figli attraverso uno schermo fin da piccolini poi sono tanto carini da piccoli sono pacciocconi fanno le facce buffe quindi ogni cosa ogni respiro ogni passo devono essere immortalati aspetta lì fermo rifallo che ti faccio il video aspetta che ti faccio la foto io mi metto nei panni di un bambino così piccolo che non sa niente della vita non sa niente del mondo conosce solo gli occhi di mamma e papà occhi che però non vede perché in mezzo c'è stiucacchio del telefono esattamente esattamente allora il bambino che idea si potrà fare della sua immagine di se stesso se viene cresciuto in quella maniera vedendo che lui vale solo nella misura in cui viene fotografato o filmato e da parte nostra abbiamo più memoria dentro il telefono che non quella visiva scusa mi hai messo 5 minuti ho ancora 5 minuti ah ok quindi tutto quello che registriamo col telefono che poi non riguarderemo mai non stamperemo ma chi se ne frega ma buttiamolo nel cestino e godiamoci i momenti di nostro figlio di nostra figlia che non torneranno più indietro loro hanno bisogno di sentire i nostri occhi di sentire un abbraccio di vedere il nostro sorriso vado veloce perché mi dicono che prima dei 13 anni i bambini hanno già oltre 13.000 foto e video pubblicati in rete dai loro genitori gli stessi bambini prima di aver compiuto 18 anni avranno già postato un totale di oltre 70.000 post questa è una ricerca inglese e per forza li abbiamo cresciuti a pane e selfie vengono su così adesso tenetevi forte perché c'è il pezzo da 90 50% del materiale sequestrato dalla polizia i pedofili del web hanno scoperto che erano normalissime foto di bambini postate in rete dai loro genitori quindi non bambini nudi non bambini in pose equivoche bambini al parco giochi alle festine di compleanno e via dicendo prima vi dicevo che quello che finisce in rete noi ne perdiamo completamente il controllo allora qua siamo tutti un pochino del settore i vari hacker criminali cioè sappiamo che ci sono tanti mezzi per rintracciare il materiale online queste persone lo fanno a tempo pieno perché oggi la pedofilia non è più solo avere il contatto fisico ma per il 90% è proprio avere materiale fotografico quindi tutto quello che c'è in rete è tutto buono per loro cambiamo argomento un altro concetto che vi voglio lasciare sicuramente lo saprete già quando un servizio è gratis se il prodotto sei siamo noi allora a voi chi è che vi regala mai qualcosa nella vita? nessuno immagino e come mai che noi abbiamo i cellulari pieni di app bellissime fantasticissime che fanno di tutto di più tutte gratis questi benedetti produttori di app sono dei benefattori che ci regalan tutta sta bella roba di cosa vivono? di aria vivono di quello che guadagnano dei dati che tirano fuori da quelle app lì comprese le geolocalizzazioni e chi più ne ha più ne metta proprio perché i dati sono il petrolio del terzo millennio questa cosa l'ha detta l'inventore di internet e siamo noi che glieli diamo senza fare neane noi quando accettiamo ci iscriviamo a qualunque social piattaforma eccetera non ci leggiamo tutto quel papiro di roba che ci mettono nelle condizioni d'uso diciamo si accetto in realtà gli stiamo cedendo i diritti di tutto whatsapp compreso ovvero rivalutiamo l'utilizzo che facciamo di questi strumenti che devono servire solo per le comunicazioni di servizio non per cose personali foto o dati password a me è arrivato di tutto su whatsapp password di siti che mi vengono i capelli dritti proprio perché noi veniamo profilati anche attraverso questi sistemi bastano adesso leggetelo voi che fate prima ho poco tempo e questa roba qua succede non solo a noi succede anche ai minori non si sa chi c'è dietro uno schermo che utilizza un device allora ho le ultime due slide posso? allora quali sono i limiti d'età per l'uso dei social dunque prima del 25 maggio che cosa è successo il 25 maggio 2018 bravissimi prima di quella fatidica data erano i 13 anni sono ancora i 13 anni in alcuni altri stati ma non il nostro poi il GDPR ha alzato questo limite portandolo a 16 anni dando facoltà ad ogni singolo stato europeo di abbassare questo limite non sotto però i 13 in Italia cosa è successo? è stato stabilito che questo limite sono 14 anni quindi sotto possiamo dire che sotto i 13 anni non è possibile né iscriversi né utilizzare i social network dai 13 ai 14 anni il consenso al trattamento dei dati perché si tratta di questo ovvero non di altro può essere rilasciato solo dai genitori mentre dai 14 anni che è la vera età della maturità digitale che dovrebbe essere festeggiato il 14esimo anno non il 18esimo il minore può rilasciare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati inoltre è anche imputabile penalmente cioè mica non sono scherzi questi qua mentre fino ai 18 anni i genitori sono sempre imputabili civilmente ecco perché noi genitori dobbiamo sapere cosa combinano in rete i nostri figli non con il controllo da falchi ma con il dialogo il dialogo è l'unica cosa un dialogo aperto sincero parlategli le notizie di cronaca che vedete passare commentatele assieme a loro e se vostro figlio vi dice mamma guarda questo gamer che figo che è voi non ditegli ma va là è un cretino voi vi sedete lì a fianco a lui e il video del gamer lo guardate perché quello è l'unico modo per imparare il loro linguaggio e dialogare assieme a loro ecco che se loro capiscono che noi sappiamo qualcosa di tutto questo è più facile che poi un domani ci verranno a raccontare o a confidare se avranno bisogno di un consiglio o di un aiuto quindi appunto occhi e cuore aperti io ho finito grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi